Consigliere Zaffiri, Presidente della Commissione d'Inchiesta Erdorica che ha chiuso i suoi lavori, ecco un commento su questi 18 mesi di impegno su dati che riguardano la società erdorica. Ma questo lavoro non è stato assolutamente un lavoro inutile, molto importante per i marchigiani perché faremo conoscere al nostro popolo, al popolo marchigiano, come è avvenuti i comportamenti della società all'interno della Erdorica per quanto riguarda in modo particolare la gestione che la Regione Marche ha dato con corposi finanziamenti con decine e decine di milioni. È giusto che i marchigiani sappiano come sono stati spesi questi soldi.